Emanuele Orlandi I dettagli nel servizio di Francesca Franceschi Tutti esponenti della banda della Magliana Nel registro degli indagati vi è anche il nome di Marco Accetti Il testimone che nel 2013 aveva riferito che il sequestro della Orlandi sarebbe stato messo in atto nell'ambito di una trama architettata per plagiare la curia Oggi la procura della Repubblica di Roma ha chiesto l'archiviazione del caso Emanuele Orlandi Dopo serrate e complesse indagini condotte dalla squadra mobile di Roma Per il pubblico ministero titolare dell'indagine Giuseppe Pignatone Non sono emersi ulteriori elementi idonei a richiedere il rinvio a giudizio di alcuno degli indagati I legali della famiglia Orlandi chiedono che vengano approfondite alcune piste Ed ascoltati una ventina di prelati ed esponenti del clero ad oggi mai interrogati dagli inquirenti Nel frattempo Pietro Orlandi, impegnato in questa dura battaglia, lancia una petizione al capo di Stato Mattarella Affinché la giustizia faccia il suo corso Contemporaneamente la procura di Roma ha chiesto anche l'archiviazione per il fascicolo processuale di Mirella Gregori La ragazza scomparsa da Roma pochi giorni prima dell'Orlandi L'ultima parola spetterà al G Passiamo alla politica Ancora polemiche tra il presidente del Consiglio e i sindacati Matteo Renzi auspica la creazione di un sindacato unico Ma arriva dura la replica delle sigle confederali Sindacati unici solo nei regimi totalitari Il servizio di Marco Cimellaro Il sindacato unico è una cosa che esiste solo nei regimi totalitari Ha risposto così il segretario generale della CGL Alle parole del presidente del Consiglio Matteo Renzi Che venerdì sera ospite della trasmissione Bersaglio Mobile Ha affermato di auspicare un sindacato unico Lo scontro tra governo e sindacati non accenna quindi a placarsi E anche questa volta ad accendere le polemiche sono le parole del premier Un Matteo Renzi a tutto campo Che difende l'operato del governo Dalla riforma della scuola all'approvazione dell'italicum Fino alle polemiche sugli impresentabili nelle liste per le regionali Non da ultimo il tema della bocciatura dell'Unione Europea Della norma sull'IVA di poche ore fa Che ha aperto un buco nei conti pubblici per 728 milioni di euro Ma non sono mancate una serie di stoccate anche ai sindacati Spero che anche tra i sindacati si possa tornare a discutere E che prima o poi si possa arrivare ad un sindacato unico Ha dichiarato il premier Che ha poi aggiunto Non sono cattivo con i sindacati Ma ci sono delle cose che non capisco E proprio su queste affermazioni è arrivata la dura replica Di CGL Cisle Will Penso che il tema sia un sindacato unitario Più che un sindacato unico È una concezione sbagliata Perché presuppone un pensiero unico Che non fa parte della modernità Ha commentato il leader CGL Susanna Camus Ma sulla stessa linea anche il segretario generale della Will Carmelo Barbagallo Che ha paragonato la concezione del sindacato di Matteo Renzi A quella della Russia di Putin Secondo Barbagallo l'idea del premier è sempre quella dell'uomo solo al comando Insomma governo e parti sociali sembrano non volersi venire incontro Rischiando di rendere insanabile la frattura che si è aperta in questi mesi Il Parlamento francese approva all'unanimità la legge antisprechi alimentari Tra le misure previste dal decreto Ho anche l'obbligo di donare a organizzazioni umanitarie Il cibo invenduto dei supermercati Dalla Francia il nostro corrispondente Armando Michel Patacchiola In tempo di crisi niente sperperi soprattutto alimentari È legge la norma che impedirà ai grandi supermercati di gettare nella spazzatura il cibo invenduto Saranno obbligati a donare tutto alle associazioni umanitarie Quello non più commestibile diventerà concime Verrà escatolato per gli animali O verrà utilizzato per la produzione energetica I numeri sono impietosi Ogni anno ogni francese getta nella spazzatura tra i 20 e 30 kg di cibo Per un controvalore che va tra i 12 e 30 miliardi di euro Meno spreconi gli italiani Secondo uno studio dell'osservatorio Westwatcher Sono solo 5 milioni le tonnellate di sprechi Che equivalgono a 8 miliardi di euro Mezzo punto di prodotto interno lordo Nel dettaglio Quasi la metà della frutta e della verdura prodotta in Italia Finisce nel cestino Analoga sorte per un pesce su tre Meno allarmanti invece i numeri di carni e legumi 4 volte su 5 Vengono regolarmente consumati Numeri desolanti Secondo la FAO 805 milioni di persone Soffre la fame nel mondo Nutrire il pianeta Energia per la vita È uno dei temi dell'Expo E durante questi mesi Si lavorerà per creare la Carta di Milano L'equivalente del protocollo di Chioto Sul tema alimentare Un trattato internazionale Con l'obiettivo di abbattere Nei prossimi 5 anni Il 50% degli sprechi alimentari Un grande appuntamento di pubblico Previssi 2 milioni di visitatori Tutti i numeri di Expo 2015 Nel servizio di Giulia Asprino Expo 2015 è l'occasione Che unisce universalmente tutti i paesi del mondo In un unico appuntamento Dal 1 maggio al 31 ottobre 2015 148 padiglioni impegnati Nella loro esposizione universale I target finanziari I target finanziari non sono ufficialmente calcolati Ma secondo le stime del New York Times È atteso un fatturato di 10 miliardi di euro Expo 2015 fa i conti 92 milioni di euro i costi 10 milioni i biglietti già venduti Il giro del globo in 6 mesi Dal 1 maggio al 31 ottobre Seguendo il fil rouge del cibo Attraverso l'esposizione universale Expo è un libro da scrivere Che parte ovviamente dalla scelta di un tema E noi abbiamo scelto per nostra fortuna Un tema magnifico Che è il tema dell'alimentazione Ma poi da lì in poi Bisogna creare qualcosa Che tra l'altro deve avere la caratteristica Di attrarre l'interesse Di 20 milioni di potenziali visitatori Del XXI secolo I numeri di Expo 2015 Sono imponenti a partire dai paesi che vi partecipano Sono 147 le adesioni ufficiali Delle quali 144 da parte di paesi partecipanti Mentre 3 sono le organizzazioni internazionali ONU, Unione Europea e CERN Sono 58 i padiglioni Realizzati su una superficie Di circa un milione di metri quadrati A nord-ovest di Milano Nei comuni di Ro, Baranzate, Bollate e Pero Nutrita la popolazione di volontari Con 7.700 candidature Giunte da 107 nazioni differenti 130.000 le ore di formazione Destinate a chi lavora senza remunerazione L'indotto del grande evento Può aggirarsi dunque Su poco meno di 15 miliardi di euro In particolare circa 6 miliardi per l'industria 4,8 per i servizi all'impresa E 3,9 per turismo e ristorazione Cannes si prepara alla cerimonia di consegna Della Palma d'Oro Grande successo per i film italiani in gara Che conquistano il pubblico e la critica I favoriti al festival nel servizio di Margherita Bordino Ma perché continuo a ripetere le stesse cose da anni? Tutti pensano che io sia capace di capire Quello che succede Di interpretare la realtà Ma io non capisco più niente Giunge al termine la 68esima edizione del Festival di Cannes Mia madre di Nanni Moretti Il racconto dei racconti di Matteo Garrone E la giovinezza di Paolo Sorrentino 3, i titoli italiani in concorso Tutti apprezzati dalla critica internazionale E dal pubblico in sala Chi vincerà alla Palma d'Oro? Moretti e Sorrentino tra i favoriti A poche ore dalla cerimonia conclusiva È ufficiale Il cinema italiano è tornato a vincere Passiamo al calcio Sale l'attesa per il derby di questo pomeriggio all'Olimpico Roma e Lazio si contendono Un piazzamento in Champions League Ma un pareggio potrebbe promuovere entrambe le squadre Filippo ben in campi La partita delle partite La resa dei conti L'attesa tra le sponne del Tevere È diventata spasmonica Per il derby più importante degli ultimi anni Destini contrapposti Umori diversi Ma stesso obiettivo Lazio-Roma vale un posto in Champions League O forse due Alla luce della sconfitta del Napoli Maturata contro la Juventus A Piogli e Garzia basterebbe un pareggio Per assicurarsi una poltrona Tra le grandi d'Europa Ma un derby è sempre un derby E guai a fare calcoli La Lazio sente odore di secondo posto E sogna un sorpasso ai danni dei cugini Per questo farà affidamento nel tridente delle meraviglie Composto da Candreva, Felipe Anderson e Close La Roma vuole riscattare una seconda parte di stagione Tutt'altro che saltante E rimarginare la ferita del 26 maggio Una data che brucia ancora Nei cuori dei tifosi giallorossi Sarà battaglia sul campo e sugli spalti Sperando che sia l'insegna della sportività e della civiltà D'altronde l'Europa chiama E Lazio e Roma devono presentarsi col vestito migliore In chiusura il gossip Fiocco rosa a Buckingham Palace Il principe William e la duchessa di Cambridge Scelgono il nome della Royal Princess Per noi a Londra c'è Barbara Burattini Una Kate Middleton raggiante a poche ore dal parto L'Inghilterra sposa nuovamente la tradizione La scelta del nome della principessina Che entra di diritto al quarto posto Nella linea di successione al trono Scalza di un ulteriore posto Harry Un fantastico equilibrio postmoderno Charlotte è in primi suonato di amore e rispetto Dimostrato per riconoscenza Nel confronti del padre Una scelta dettata dal cuore Ma il velo capolavoro di diplomazia dei Cambridge Sta in quella Elizabeth Che oltre ad essere un omaggio all'attuale sovrana Riporta anche il secondo nome di Kate Ma c'è anche Diana come il nome della piccola Non poteva infatti mancare un omaggio a mamma Diana Che in questi giorni era comunque presente Come lo dimostra l'anello di zaffiro blu Regalato da William a Kate Diana quindi come simbolo di cambiamento Quel cambiamento che deve accompagnare la monarchia britannica Se vuole sopravvivere nei secoli Il nostro telegiornale termina qui Appuntamento alla prossima edizione Arrivederci Grazie a tutti